Questo giovane paziente è arrivato alla mia osservazione circa due settimane fa in fase acuta di lombosciatalgia da ernia discale espulsa L5S1. Era da un anno che soffriva con gli effetti di l'espulsione della ernia discale con una lombosciatalgia importante dal punto di vista del dolore e anche dell'impotenza funzionale per cui abbiamo deciso di affrontare l'intervento chirurgico mini-invasivo endoscopico per l'asportazione mirata di questa ernia discale. Ha fatto l'intervento una settimana fa, da subito ha avuto il beneficio dell'intervento con la totale scomparsa del dolore e la ripresa della funzionalità dell'arto inferiore destro e adesso abbiamo deciso di concludere l'intervento con il tentativo di rigenerazione del disco intervertebrale. Quindi avendo il disco subito un'espulsione di tessuto noi andremo a rigenerare il tessuto espulso mediante l'impianto glicello e staminali mesenchimale. È un anno che mi porto appresso questo problema causato dall'ernia che mi ha causato un'infiammazione tutto nervosciatico che mi parte da dietro la schiena e arriva fino sotto la caviglia ed è arrivato al punto in cui non riuscivo più a star seduto, a stare in piedi per un tot di tempo e soprattutto a volte non riuscivo neanche a dormire. Lunedì invece mi sono sottoposto a questo intervento con la tecnica endoscopica e ho fatto anestesia locale e da subito dopo l'intervento da quando mi sono risvegliato il dolore alla gamba era totalmente sparito, non avevo più nessun residuo di infiammazione o di sensazioni. Sono riuscito a tornare a dormire, a star seduto e a camminare, a stare in piedi. Non è finito qui il percorso perché adesso abbiamo deciso con il dottore che faremo un intervento con le cellule staminali per cercare di rivitalizzare il disco e con la speranza appunto di tornare a stare bene come prima, anche se diciamo che già adesso va bene così. Grazie.